Un personaggio che è stato anche ospede nostro ultimamente, Samuel Bersani, un 22 anni che viene da Cattolica, che è stato scoperto, se possiamo dire questa parola, insomma così, da Lucio Dalla, che Lucio l'ha mandato sul palco a cantare il mostro davanti a un pubblico, che sono rimasti veramente incantati, così incantati infatti, che Lucio ha deciso anche a inserire questo brano nel suo, 33 giri almeno usciti da poco, anzi, già venduto un sacco di copie, e anche procurato un contratto discografico per Samuel con la Presse, buon per lui, e ovviamente meritato direi. Qui allora passiamo con Video Italia questo brano intitolato Chico e Spilo, Chico e Spilo, Samuel Bersani. Samuel Bersani, bene, allora Chico e Spilo è stato Video Italia, siamo arrivati alla fine di Hotline.